Caro spirito, Edoardo sta uscendo con una? Allora ragazze, è passato un anno e siamo ancora qui. Vabbè, allora sprinno, no? Ma alla fine con Silvia ci hai parlato. Edoardo in cantiluno non mi piace. Sei sicura? Non è che ci sta nascondendo qualcuno? Non ti sei stancata di questo gioco? Quale gioco? Guardate che si sta rovinando, eh? Mi dici che succede? Ti ha detto che ha la febbre. Ti prometto che non ti farò mai del male. Ti ho scopo. Ti ho scopo. Ti ho scopo. Ti ho scopo.